Come è andata a scuola? Bene. Io benissimo. Domanda di riserva. Qual è la vostra materia preferita? Ginnastica. Matematica. Storia. Se il tuo allenatore fosse un professore, che tipo di professore sarebbe? Un professore tranquillo. E senza pressione. Inizio da lui. No, no, no. Inizio da te. E sarebbe molto cattivo, però bravo. Sì, uguale. Che voto dare a sé al tuo campionato? Sette e mezzo, otto. Dieci. Ottimo. Undici. Interrogazione finita. Ora cantateci un coro dell'Atalanta per concludere. Non so cori dell'Atalanta, purtroppo. Diciamo show time. È il nostro inno di battaglia. Ale, Atalanta, ale. Sì, sì, sì. È. Sì, sì. Sì. Grazie per la visione!